Architetto De Lucchi, l'installazione di quest'anno che lei ha curato è La Passeggiata, come metafora di un nuovo ambiente di lavoro. Perché La Passeggiata? Beh, camminare vuol dire mettersi in moto, cercare una meta, un obiettivo e questa è proprio la storia dell'uomo. Non stare fermi e cercare sempre una ragione per raggiungere qualche cosa e per evolvere qualche cosa che esiste, per migliorarlo. In questo senso direi che il mondo del lavoro, in questo concetto, in questo riferimento, raccoglie tutta la sua essenza e tutta la sua ragione d'essere. Ha senso andare in ufficio a lavorare se questo produce qualche cosa e migliora qualche cosa della propria condizione al di là dello stipendio. Anche perché oggi si lavora dappertutto, si può lavorare benissimo in casa, al parco, negli autogrill, in autostrada o nelle stazioni e negli aeroporti. Quindi bisogna anche cercare una nuova ragione per andare in ufficio e bisogna anche cercare una ragione per cui gli uffici si attraggono e rendono l'ambiente più stimolante, più creativo, più comunicativo. La passeggiata vuol dire questo, non si va in ufficio per mettersi la testa tra le mani e uscire dal mondo, ma si va in ufficio per incontrare gli altri, per vedere delle cose diverse, per lasciarsi influenzare, stimolare e dare vita alla propria esistenza. Grazie. Grazie.